Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti. Vi do il benvenuto in questo spazio virtuale da cui questa sera cercherò di portarvi in Indonesia. Do per scontato che mi vediate e mi sentiate correttamente, per cui comincerei. Questa presentazione ha come obiettivo quello di darvi un'idea, un'infarinatura di quella che è l'Indonesia come destinazione per il vostro prossimo viaggio. Chiaramente si tratta di un'infarinatura perché descrivervi in poco più di mezz'ora oltre 17.700 isole diventerebbe un po' acrobatico, per cui ho pensato di dividere la presentazione in due momenti. Il primo vi darò una serie di informazioni generali su quelle che sono gli elementi, le domande che tutti i viaggiatori mi fanno quando pensano a un viaggio in Indonesia e la seconda invece sarà un pochino più emozionale. Ho preparato per voi delle immagini, delle fotografie che vi mostrerò per darvi un'idea di quello che effettivamente la destinazione può fare. Sì, abbiamo Nuria dall'altra parte, da Parigi, che ci sta assistendo, quindi ciao Nuria. tolgo i capelli dal microfono. Mi presento, sono Laura e con la mia agenzia collaboro con Evaneus dal 2017. L'agenzia esiste in realtà dal 2015, è nata tra il 2014 e il 2015. L'agenzia è basata a Giojakarta, quindi sull'isola di Java. È un'agenzia costituita principalmente da operatori locali. Io ormai da circa dieci anni vado avanti e indietro dall'Indonesia, divido tra Indonesia e Italia. Ciao a tutti, vedo che state arrivando poco per volta. e quindi insomma la considero un po' la mia seconda casa, diciamo così. Ormai non so più qual è la prima o qual è la seconda, comunque. Andiamo avanti. Sicuramente alcune delle informazioni più importanti da sapere è quando partire. Quindi mi chiedete quando possiamo andare in Indonesia. Allora, in Indonesia ormai ci si va tutto l'anno. È diventato veramente complesso, tra l'altro, come poi avrete visto voi stessi, ma anche nella nostra quotidianità in Italia o la città in cui mi state guardando. È diventato veramente complesso dare delle indicazioni climatiche precise. Quindi, io vi darò delle informazioni generali, prendetele pure per buone, però sappiate che siamo un po' nelle mani del caso, ecco. Anche perché l'Indonesia, essendo uno stato molto... Ah, c'è anche Viviana. Ciao Viviana. Essendo uno stato molto allungato, si estende, pensate, su tre fusi orari, cioè diversi fusi orari. Non ha una sola fascia climatica, ne ha ben tre, una equatoriale, una subequatoriale e una più tropicale. Diciamo che la zona tropicale è probabilmente quella che interessa maggiormente il maggior numero di viaggiatori. È la fascia che include Bali, Java, l'isola di Flores, quindi il famoso arcipelago di Komodo, e buona parte del Sulawesi. In questa fascia climatica, diciamo che ancora riusciamo a individuare una stagione secca e una stagione più umida. La stagione secca è quella che va da fine aprile-maggio fino a ottobre. Questo sulla carta, perché ad esempio abbiamo avuto in passato viaggiatori tra novembre e dicembre che sono stati contentissimi e io mi ricordo benissimo l'anno scorso, penso di non aver visto la luce del sole in tutto luglio, quindi non quest'anno, l'anno prima, quindi queste diciamo però sono regole che generalmente funzionano. Nella successiva slide vedete un po' la fascia, ecco quella che vi dicevo appunto, la fascia che è la fascia del climatica tropicale che include un po' tutte le località più interessate dal turismo, soprattutto dal turismo italiano. italiano. Poi, perfetto, vaccini. Allora, non sono richiesti vaccini, non ci sono vaccinazioni richieste obbligatoriamente. Poi tutti, tutti, tutti mi chiedete se c'è la malaria, se ci sono cose strane e pericolose. Ora, considerate l'Indonesia come un'area tropicale, per cui da tropico a tropico esiste il rischio di malaria, esiste il rischio di dengue e cose di questo genere, insomma. Deontologicamente parlando, io non do consigli medici, non vi posso consigliare cosa è meglio per voi. Vi consiglio sicuramente di viaggiare in queste zone, ma generalmente in una qualsiasi altra zona tropicale, con un buon repellente e magari potete coprirvi braccia e gambe o comunque la pelle nelle ore successive al tramonto. Questo è una regola base fondamentale che comunque vi può essere utile in qualsiasi zona tropicale. Per tutte le altre vaccinazioni che mi vengono chieste, ad esempio se mi chiedete se serve l'antitetanica, il vaccino contro l'epatite, io vi rimando al vostro medico. Non conoscendo la persona che ho di fronte, non conoscendo lo stato di salute della persona che mi contatta, io non posso fare altro appunto che rimandarvi a persone sicuramente più competenti che conoscono meglio il vostro stato di salute. Io posso solo dirvi che in tutti questi anni che ho viaggiato in Indonesia, che sono stata in Indonesia, non mi sono mai vaccinata, però è stata una mia scelta e per il momento tutto bene. Il visto, il passaporto. Il passaporto chiaramente è il documento richiesto per l'ingresso nel paese. Assicuratevi di avere un passaporto valido. Il passaporto dovrebbe avere, deve avere almeno sei mesi di validità residua dalla data di ingresso in Indonesia. Ed è importantissimo che abbia almeno due pagine consecutive libere. Mi raccomando, questo controllatelo bene. Il visto per i soggiorni di tipo turistico con durata inferiore ai 30 giorni è gratuito, dagli ultimi anni è gratuito. Vi viene fatto nel momento in cui entrerete in Indonesia, quindi all'aeroporto sostanzialmente, quando durante il controllo passaporti vi verrà messo il timbro di entrata e anche in uscita. Se avete domande fino a questo punto su clima, vaccinazioni, documenti, altrimenti io vado avanti e cerco di tenere d'occhio un po' se ci sono domande. A chi consiglia un viaggio in indonesia? Beh, a tutti, ovviamente. Non tanto perché è il campo di questo, ma perché effettivamente l'Indonesia è talmente vasta, talmente varia e variegata, che può adattarsi a qualsiasi tipologia di viaggiatore ed esigenza di viaggio. Stanno crescendo i viaggiatori solitari, l'Indonesia è diventata un po' adesso la nuova India, in cui si parte alla ricerca di se stessi ed è un posto estremamente sicuro ed accogliente, in cui difficilmente soffrirete di solitudine, perché soprattutto i locali, comunque l'atmosfera che si crea in diverse zone dell'Indonesia, quelle più turistiche, quelle dove magari una persona viaggia da sola per andare a fare immersioni, per andare a fare surf, è veramente molto accogliente. È una destinazione adatta a coppie di qualsiasi età, anche viaggi di nozze, ma anche a coppie con bambini, quindi famiglie con bambini di età, devo dire la verità, non ho mai avuto problemi particolari con nessun tipo di fascia d'età di bambini o gruppi di amici, anche perché ricordiamoci che la competenza della gente di viaggio, e parlo anche a nome di tutto il mio staff, che è sicuramente molto preparato in questo, sta nel consigliarvi l'itinerario e l'isola più adatta. Quindi se viaggiate con bambini magari piccoli, che soffrono la macchina, ecco che sicuramente un mio collaboratore non vi proporrà magari il tour di Flores, però avete un bambino che non gradisce i lunghi tragitti in auto, ma preferisce magari muoversi in giornata, partendo comunque dalla sua camera di hotel e per rientrare la sera stessa nella camera di hotel, insomma senza dover disfare, fare le valigie tutte le volte, si riesce comunque a trovare la soluzione più adatta alle esigenze anche dei viaggiatori più piccoli, più giovani. Non ci sono quindi nessun tipo di restrizioni o limitazioni per chi vuole visitare l'Indonesia. Esistono tante tipologie di viaggio, infatti, perfetto, ci sono i tour organizzati, quindi tour veri e propri, guidati, con guide che parlano anche italiano, inglese, si riescono a trovare anche guide che parlano i francesi, insomma non ci sono grosse problematiche da questo punto di vista, se non la cosa fondamentale del prenotarle con largo anticipo. Considerate che sull'isola di Java ci sono dieci guide parlanti italiano, dieci, per cui capite che per chi ha l'esigenza di avere un tour guidato assolutamente in lingua italiana, il suggerimento che do è prenotate con largo anticipo, per assicurarvi appunto la disponibilità. Soggiorni mare, chiaramente ci sono tante isole che si prestano a un soggiorno mare più o meno dinamico, poi vedremo più avanti anche alcune diverse tipologie di isole. Il combinato tra più isole, se avete la possibilità, se avete il tempo a disposizione, un budget anche a disposizione, sicuramente il combinato tra più isole è la soluzione più carina che vi consente di vedere più destinazioni. Considerate che l'Indonesia è costituita esclusivamente da isole ben collegate tra loro, ma occorre dedicare tempo agli spostamenti. Sicuramente il combinato più venduto e più apprezzato è il tour di Java con Soggiorno a Bali, che non è solo un soggiorno mare, ma può essere anche un soggiorno con dei tour organizzati in loco giorno per giorno. Poi magari il soggiorno mare, oppure un combinato Bali più le isole Ghili, le famose atolli corallini di Lombok. Ultimamente stiamo ricevendo tante richieste per viaggi anche un pochino più dinamici, quindi persone che vanno a Lombok, vanno a Bali per fare surf. Chiaramente altissima richiesta di viaggiatori che cercano posti meravigliosi per fare immersioni. L'Indonesia, non dimentichiamo, che è sicuramente una delle destinazioni principe, un paradiso per chi ama le immersioni, quindi per i subacquei. E anche qualche richiesta sul trekking, magari passeggiate sui vulcani, passeggiate anche più tranquille. Abbiamo diverse possibilità di trekking per diversi livelli di preparazione. Per darvi un'idea, indicativamente il prezzo medio dei voli chiaramente cambia molto da alta e bassa stagione e cambia molto anche se si decide di arrivare a Jakarta, cosa indispensabile, perché decide di fare il tour di Java. Francesco ti rispondo subito. A Bali chiaramente i prezzi sono in media un po' più alti, sia nella bassa stagione che per l'alta stagione. Anche in questo caso il consiglio che vi posso dare è di prenotare con molto anticipo. Considerate che un volo su Bali acquistato, ahimè, giugno-luglio per un viaggio, il classico viaggio in agosto, è capace di costare anche 1.500 euro. Quindi cosa che non succede se lo prenotate tra febbraio e marzo, per capirci. Quindi questo sicuramente è una variabile da tenere in grande considerazione. Non esistono voli diretti, tutti i voli hanno uno scalo. Le compagnie che volano sull'Indonesia sono veramente tantissime, ormai è anche di ottima qualità. Ne cito alcune, giusto per darvi un'idea. Emirates, Qatar, ha cominciato anche la Tarkish, che permette di partire da tantissime città d'Italia. Singapore Airlines, cioè non ci sarà mai, diciamo, il rischio che non troviate un volo per l'Indonesia. Il volo per l'Indonesia si trova, è solo questione di quanto siete disposti a pagarlo. Francesco chiede i viaggi per fotografi. Grazie, sì. I viaggi per fotografi assolutamente. Abbiamo avuto in passato dei gruppi di appassionati di fotografia. Non l'ho citata, chiedo scusa, ma ci sono destinazioni molto suggestive, sia a livello di panorama, natura, ma anche da un punto di vista di contatto con, magari, culture molto, molto particolari. Le vediamo poi nella presentazione delle immagini che vi ho preparato. Diciamo che ci sono situazioni, mi viene in mente una trattante, il Tanatoraja, appunto il contatto con questa popolazione, o i danni della Papoasia, che sono effettivamente situazioni che per i fotografi risultano più uniche che rare. Anche se, voglio dire, una semplice Bali, dico semplice perché chiaramente è la più turisticamente accessibile, ha degli scorci, dei momenti che l'occhio del fotografo, poi, diciamo, della persona che ha l'occhio del fotografo riesce a cogliere, non per niente il web è pieno di immagini strepitose, di scogliere, di spiagge, di risaie, quindi assolutamente. Poi è chiaro che se abbiamo delle persone con questa specifica richiesta, ci tariamo in modo che, ad esempio, riescano a cogliere quello che effettivamente chiedono. Mi era capitato un paio di anni fa una persona che voleva assolutamente fotografare i portatori di zolfo delle cave dell'Oigène, quindi abbiamo organizzato tutto il tour in modo da non prendere, per esempio, il giorno in cui non lavorano. Ecco, quindi banalmente se sappiamo quali sono le esigenze specifiche, sicuramente ce le operiamo in modo che non siate delusi. Draghi di Komodo, ci arriviamo. Intanto capiamo un attimo come spostarci tra le varie isole e durante i tour. Noi utilizziamo macchine, i nostri tour vengono organizzati con macchine o minivan, a seconda del numero dei partecipanti, chiaramente, autista, con autista, aria condizionata, tutti i comfort. Proponiamo anche alcune tratte in treno. Ci siamo accorti che è una cosa molto apprezzata, più che altro perché spezza un po' anche il ritmo di questi tour sempre in macchina, seduti in macchina, eccetera. Il treno varia un po'. È un'esperienza molto carina, i treni che li utilizziamo principalmente sull'isola di Java hanno uno standard di servizio e di qualità assolutamente più che accettabile, puntuali, cosa che spesso ai me... ecco, ti siamo capiti? Quindi macchina, minivan e alcune tratte in treno. Il treno tra l'altro ci permette di evitare soprattutto nelle zone di alto scorrimento di traffico, di insomma traffico in senso e in periodi di alta stagione, di evitare appunto gli ingorghi. Le varie isole sono collegate tra loro con dei voli domestici. Come agenzia noi preferiamo sempre proporre ai nostri clienti dei voli domestici operati da Garuda, che è diciamo la compagnia di bandiera indonesiana. Sicuramente è un pelo più costosa delle altre, ma onestamente non ci ha mai lasciato abbandonati da soli, quindi sappiamo che possiamo contare su un'assistenza puntuale, precisa. Gli aerei sono tra i migliori. Calcolate che Garuda compariva fino all'anno scorso, quest'anno non ho notizia, ma dovrebbe essere ancora tra le prime cinque compagnie aeree migliori al mondo. Quindi Garuda veramente è una garanzia per quello che riguarda i voli interni. Barche veloci? Raffaele, insomma, sei stato forse un po' sfortunato, anche se effettivamente in certi periodi lui dice velocità media Java Bali, 30-40 km all'ora, è capitato, sì, è capitato. Devo dire, se hai la fortuna, sfortuna di attraversare una zona di Bali con un tempio importante e quel giorno c'è una cerimonia, hai ragione. Dicevamo, i collegamenti tra le isole avvengono anche con le barche veloci, ad esempio da Bali si raggiungono le isole Ghili in barca veloce, da Java si può raggiungere Karimungiava in barca veloce e le barche veloci arrivano anche dove non c'è la possibilità di chiaramente arrivare in aereo, per cui sicuramente è un mezzo di uno spostamento molto molto frequente. Anche il ferri, il ferri viene utilizzato principalmente in quei momenti in cui il mare, l'oceano, rende impossibili i trasferimenti via barca. Ricordiamoci che è oceano, quindi può capitare, in 12 mesi all'anno può capitare il periodo di mare grosso, quindi anche questa è una cosa che noi cerchiamo sempre di sapere quando proponiamo un viaggio, un pacchetto, chiediamo sempre il rapporto che ha il cliente col mal di mare, ecco perché ci sono destinazioni che possono essere raggiunti con barche veloci e con volo domestico, quindi valutiamo cosa è meglio per voi in quel momento. Ecco, tenete presente anche che le isole sono ben collegate, come dicevo, ma serve tempo, serve tempo. Comunque il check-in all'aeroporto, anche per un volo domestico, avviene un'ora prima dell'imbarco e le barche veloci richiedono ultimamente, soprattutto in alta stagione, un check-in di due ore prima dell'imbarco. Per cui è vero, dici ma insomma qua c'è Bali, qua c'è Lombok, perché io devo considerare una mezza giornata di spostamento? Perché purtroppo può capitare, soprattutto quando si viaggia con una barca veloce, considerate che si parte se e soltanto se e quando il capitano di quella barca decide che le condizioni del mare sono ottimali e sicure. Quindi vuol dire che la marea è al punto che dice lui, la corrente è come dice lui e allora parte, altrimenti può capitare che si accumuli ritardo. È chiaro che questo viene fatto in funzione della sicurezza di chi viaggia, per cui anche questa è l'Indonesia e sia io che i miei collaboratori lo ricordiamo spesso ai nostri viaggiatori. Questa è un'esperienza indonesiana, quindi il porto con il suo caos è la sua confusione e la possibilità anche di doversi piegare alle volontà dell'oceano. Quindi attenzione, in questo è molto importante secondo me da evidenziare perché la buona organizzazione di un viaggio dipende dalla conoscenza che un operatore ha delle possibilità di spostamento dei tempi, delle condizioni, dei rischi che esistono nello spostarsi da un'isola all'altra. Quindi questo è sicuramente un vantaggio di appoggiarsi ad operatori locali, ad un'agenzia locale che comunque ha una profonda conoscenza di questi aspetti. Gli alloggi, sì, avanti. Allora, gli alloggi, cerco di accelerare un attimo, se non ci sono domande. Allora, dobbiamo distinguere diverse tipologie di destinazioni, soprattutto definite dal livello di servizio. A Bali, a Java, ad esempio nella città di Giojakarta, che è il cuore dell'esplorazione di Java centrale, esiste chiaramente qualsiasi tipologia di hotel, di struttura, di boutique hotel, dal 3 stelle al 5 stelle al superlusso. Lì il turismo esiste da tempo. Sono stati fatti tanti investimenti stranieri, quindi troviamo veramente il Phoenix, che è un hotel strepitoso, in Melia, a Giojakarta, sull'isola di Java. A Bali troviamo strutture da sogni, immersi nella giungla, con queste piscine a sfioro, che avrete visto sicuramente in mili documentari. Esiste però una realtà indonesiana fatta di destinazioni dove il turismo sta arrivando, dove gli investimenti ancora si stanno, diciamo, delineando, dove le strutture magari richiedono un pochino più di adattamento. Lasciatemi dire che è anche una cosa molto apprezzata dal viaggiatore, che si trova magari in una stanza dove non c'è un armadio decente, in alcune zone, mi viene ad esempio in mente Flores, il parco marino, dove le strutture non hanno né aria condizionata né acqua calda ancora. È chiaro che anche in questo caso noi conosciamo personalmente e direttamente tutte le strutture che proponiamo, quindi sappiamo dirvi che cosa vi potete aspettare da quell'hotel e magari non da quell'altro. Nell'area del Bromo, ad esempio, collaboriamo da tanti anni con questo lodge che non vede un rinnovo, credo, dagli anni 60. Però ti sveglia la mattina, vai a far colazione e sei sulla caldera del Bromo. Quindi sono cose che... Sì, terremoti. Qua intanto vi faccio vedere Lenging Gardens di Ubud, per darvi un'idea di quello che ho detto prima. Quindi un super lusso di Ubud, prezzi strepitosi da capogiro e tra l'altro una cosa molto... un'altra tipologia di struttura che sta arrivando sono gli ecologi, gli ecoresort. Ad esempio a Comodo c'è questo bellissimo resort, il Comodo resort, che si può definire una struttura di lusso. È un ecologico, quindi è costruito seguendo determinate caratteristiche di sostenibilità. Per esempio, quando arrivate, il personale vi fa un brief chiedendovi la cortesia di non ad esempio utilizzare lo sciacquone del water. Viene fornito un bidone con acqua del mare, viene fatto tutto un processo di riciclaggio. Lì l'acqua è un bene preziosissimo perché non c'è l'acqua sull'isola, quindi viene portata quotidianamente con barche molto lente che quindi impiegano quasi un giorno per arrivare a questa bellissima isola che è Sebayur. E poco alla volta questa moda sta un po' prendendo piede, c'è sempre più attenzione all'eco sostenibilità. Bene, domande sugli alloggi? Se no faccio una breve panoramica della gastronomia, giusto perché ci sono molti aspetti magari interessanti. Poi rispondo anche a Mauro. La gastronomia, la cucina indonesiana risente tantissimo dell'influenza cinese, quindi l'alimento principale è sicuramente il riso. Nella foto vedete il nasi goreng che è considerato un po' il piatto nazionale, è riso cotto al vapore, poi saltato con frutto di mare, carne, c'è sempre un uovo che lo guarnisce e può essere più o meno speziato. Ecco, è una cucina speziata, è una cucina speziata, è una cucina piccante, anche se c'è molta attenzione da parte solitamente del ristoratore a chiedere soprattutto a un turista, a un viaggiatore che viene straniero, che livello di piccante è disposto, può sopportare. Nelle zone più turistiche trovate qualsiasi tipo di cibo. Nella zona sud di Bali trovate da ristorante messicano, ristorante italiano, la pizza. Io vi garantisco che a Sanur ho mangiato una delle pizze più buone che abbia mai mangiato, quindi c'è un po' di tutto. Il maialino, ecco, il maialino, come dice Alessandra, è il piatto tipico di Bali. Uno si aspetterebbe, Bali è un'isola, quindi si mangerà, non so, il barracuda cucinato in qualche modo, in realtà il piatto principale di Bali è proprio un maialino che come tipo di cucina ricorda un po' quella sarda. una cosa importante, sì è una cucina molto varia, quindi è chiaro che troverete una cucina da Sulawesi a Sumatra che possono essere veramente, possono essere molto varie, molto diverse chiaramente come, voglio dire, basta vedere la nostra Italia, la cucina regionale, considerate che in indonesia abbiamo oltre 300 etnie con le loro traduzioni, eccetera. Una parentesi, la voglio, una breve parentesi per chi ha intolleranze alimentari. A noi sono capitati viaggiatori celiaci che si sono mossi tranquillamente tra Bali e Sulawesi e Java. L'importante in questi casi è sapersi spiegare, quindi sarebbe importante almeno in inglese o magari accompagnati da una guida parlante italiano comunicare con la cucina, però per il momento non abbiamo mai avuto segnalazioni problematiche o cose di questo genere per viaggiatori con intolleranze. Allora c'è una domanda di Raffaele che propone le crociere. Le crociere le vediamo quando parliamo di Comodo. Francesca chiede sulla base di cosa scegliamo le destinazioni. Beh, innanzitutto parliamo con il viaggiatore, quindi cerchiamo di capire che tipo di viaggio, che tipo di vacanza cerca. E poi noi le proponiamo le destinazioni, chiaro che non le scegliamo per voi, però ecco sulla base di, non so, un viaggiatore ci chiede immersione, piuttosto che surf, piuttosto che trekking, piuttosto che relax, eccetera, ascoltiamo e cerchiamo di proporre, poi è chiaro che ci si confronta, quella che potrebbe essere secondo noi la soluzione migliore. All'omboc, sì, vedremo anche l'omboc tra poco. Tempi visitabile anche da Cappiaget, come la mia che non riesce a affrontare tragetti ai piedi difficili. Sì, ai templi. Allora, i templi sono tutti accessibili, credo che tu forse Lorena faccia riferimento alle scalinate, possono esserci effettivamente delle scalinate, quindi adesso dipende dalla problematica, ecco. Io non ho, non mi è mai capitato, ecco, di dover sconsigliare la visita di un tempio anziché un altro. È chiaro che anche qua si parla. Ci sono capitati, per esempio, persone che non potevano salire oltre una certa altitudine, per cui abbiamo tarato il tour di Java tagliando fuori, che ne so, il Monte Bromo. Magari il tempio più ripido che mi viene in mente adesso che è Lampuyang, dove ci sono 1700 gradini, è chiaro che se, ad esempio, Lorena me lo chiedi, te lo potrei sconsigliare. Ecco, ma ce ne sono tanti altri che non hanno nessun tipo di limitazione. Ok, va bene. Allora, visto che comunque siete appunto molto interessati a entrare nel dettaglio delle destinazioni, partirei a Bomba con alcune immagini, cominciando da Java. Ecco, Java, perfetto. Questa è un'immagine del Monte Bromo. Il Monte Bromo è una destinazione che noi proponiamo a chi magari ha più tempo di visitare tutta l'isola di Java. Si trova nella parte est dell'isola di Java. Si raggiunge, per esempio, da Giocarta con il treno fino a Moggio Certo, zona Surabaya più o meno. Poi si procede sempre con la macchina, si arriva in questi lodge con cui collaboriamo. Noi proponiamo l'alba perché effettivamente vedere l'alba, il sole che si alza e illumina, qua purtroppo l'immagine è quella che è, per esempio questo qua è un'immagine che un fotografo potrebbe sicuramente rendere molto, molto meglio. Quando il sole sorge e illumina il Monte Bromo è una cosa che veramente, vi garantisco, toglie il fiato. Quindi sicuramente è un must to see, è sicuramente da vedere. Sempre sull'isola di Java avrete tutti visto l'immagine del Borobudur, quindi un monumento buddista, nonché patrimonio dell'UNESCO. Un tempio che ricorda un po', riporta la forma del mandala, ha una forma quadrata, sette piane, una sorta di piramide. Anche qua si può visitare sia all'alba o durante la giornata normalmente. Comunque anche chi lo visita all'alba ha una volta sorto il sole la possibilità di vedere tutti i graffiti che decorano i vari passaggi piano per piano. Sono bassorilievi che sostanzialmente rappresentano i vari livelli della coscienza umana, quindi si parte dalle bassezze, dalle nefandezze umane, fino ad arrivare appunto alla cima dove ci sono questi stupa che contengono il Buddha, quindi rappresentano l'illuminazione della coscienza umana. Questo tempio si trova in zona Magellan, quindi circa 40 chilometri da Giocciacarta ed è una delle prime tappe che noi per esempio proponiamo durante i tour. Sempre per stare su Java e per proporvi qualcosa che sicuramente non è molto conosciuto, il Merubetiri. Il Merubetiri è un parco nazionale che si trova nella parte sud orientale dell'isola. È un parco che a me è rimasto nel cuore, nel senso che i viaggiatori e il turismo lì non sono ancora arrivati. Io e una mia collaboratrice l'abbiamo visitato, lo teniamo lì perché effettivamente è un viaggio che va proposto a un viaggiatore vero. Ci sono anche questi chiaramente che ci contattano. Si parla di 7-8 ore di jeep nella giungla, quindi situazioni impegnativi, guadi di fiume, sicuramente cose molto avventurose. Poi si arrivano, si arriva a questi ranger che sostanzialmente vivono la loro vita prendendosi cura delle uova di tartarughe, per questo c'è questa immagine di questa tartarughina, perché è una delle esperienze più belle che se si è fortunati si può fare a Merubetiri e vedere la schiusa delle uova e quindi queste tartarughine che corrono verso il mare. Ecco, è un viaggio sicuramente che richiede voglia di esplorare, ecco. Però si arrivano, si arriva in posti talmente remoti, ecco, questa è un'idea di come come si arriva a queste sistemazioni molto basiche, sicuramente molto molto semplici. Da Java, procediamo pure con le immagini. Una destinazione che è stata definita un po' un astro nascente delle destinazioni indonesiane è l'arcipelogo di Karimunjava, si trova a largo della costa nord di Java. Java vi ricordo che ha una forma allungata, quasi orizzontale, per cui per costa nord chiaramente intendo la parte ad esempio di fronte a Semarang, da Semarang infatti possono partire anche i collegamenti a questo arcipelago. Sono isole, è un arcipelago diciamo reso famoso da un resort che è quello che vedete lì in arrivo, l'abbiamo fotografato dalla barca. Lì effettivamente vedete l'acqua, il soggiorno mare è una cosa sicuramente suggerita e consigliata, tuttavia il grosso dell'arcipelago, l'arcipelago ovvero quello abitato dalla popolazione è leggermente più spostato verso nord-est e sono isole più grandi, le strutture, abbiamo un paio di strutture effettivamente che mi sento di consigliare per un ottimo livello di servizio. Sono isole che però non hanno quella spiaggia che magari è nell'immaginario di qualcuno che cerca una destinazione tropicale, sono isole che vanno vissute sulla strada, nel senso esplorate in lungo e in largo, ma soprattutto in barca. Il bello di Carimungiava è prendere la barca, ogni giorno spostarsi, vedere queste isole incontaminate, quindi con spiaggia color borotalco, mare cristallino, si fanno questi barbecue, questi picnic sulla spiaggia, si fa uno snorkeling strepitoso, immersioni bellissime per chi vuole profondità molto contenuta, ma immersioni le ho provate e sono pregevoli sicuramente. Quindi soggiorno mare sì, ma non dimentichiamoci che Carimungiava è sicuramente una destinazione anche per i più dinamici. Poi se andiamo a Bali, ecco non poteva mancare, perché insomma non dimentichiamoci che Bali sì, magari è molto commerciale, è molto turistica, molti mi dicono eh ma so che c'è traffico, c'è caos, c'è tanta gente. Sì, ricordiamoci che la gente va nei posti belli, ok? Quindi se c'è tanta gente c'è un motivo, Bali sicuramente rimane Bali. E vi propongo questa bellissima vista che si gode dal Tempio di Unuvatu, il Tempio Hinduista, scusate, a picco sul mare, un tempio che viene visitato molto spesso al tramonto, potete capire perché la suggestione è veramente incredibile, anche se all'interno del Tempio in effetti possono possono accedere soltanto i fedeli. Quindi questa è la famosa vista di Unuvatu, sicuramente una meta che avrete visto, stravisto in tanti documentari e fotografie. Meno famosa sicuramente è la costa est di Bali, Ahmed. Ecco, Ahmed devo dire è il mio posto del cuore, nel senso che dopo che rimango per diversi giorni, settimane, magari nella parte sud di Bali per lavoro, chiaramente, io scappo ad Ahmed. Per me, Ahmed vedete, ha questa, è un susseguirsi di villaggi, Ahmed in sé non è un villaggio, è un insieme di villaggi, villaggi di pescatori, quindi ancora al ritmo della vita frenetica di Bali sud, di Dempasaro, di Ubud, qua non è arrivato. È caratterizzato da queste spiagge nere, nerissime, perché vedete lì sullo sfondo, quello che vedete coperto dalle nuvole, è la Gung, quindi un vulcano ancora attivo, quindi la spiaggia è una spiaggia vulcanica. Il mare è estremamente balneabile, qua non ci sono onde per i surfisti, per chi fa kite, qua è veramente un mare, è un mare godibile e si riscopre un po' quella che era Bali 30 anni fa. Quindi questa è una cosa che ad esempio non propongono in tanti, Ahmed non viene proposta e noi la stiamo spingendo, devo dire, nell'ultimo anno e mezzo o due ed è stata molto molto apprezzata, soprattutto dopo il volo aereo, dopo il viaggio, magari per chi arriva a Bali, noi proponiamo già una sosta ad Ahmed, quindi proprio una decompressione dalla stanchezza del viaggio, eccetera. Poi da Ahmed li facciamo arrivare ad Ubud con un trasferimento che però è un'escursione, quindi è un'ottima occasione per visitare tutta la parte est dell'isola che offre tanto, offre tante attrazioni da visitare. Però Ahmed è una chicca, è una chicca che rimane veramente fuori dalla massa, dal turismo commerciale e tanti viaggiatori che hanno viaggiato con noi hanno effettivamente apprezzato molto il luogo. altro astro nascente sempre più richieste ci vengono fatte per Nusa Penida, un'isola che è raggiungibile da Bali in poco tempo effettivamente, è un'isola molto selvaggia. La leggenda racconta che Bali, sapete, viene chiamata l'isola degli dèi, quindi la leggenda racconta che tutti i demoni cacciati da Bali, perché era diventata l'isola degli dèi, si siano rifugiati a Nusa Penida, quindi Nusa Penida deve questo suo aspetto brullo, bruciato dal sole, molto selvaggio, molto duro, proprio a questi demoni che nel corso dei secoli hanno alloggiato e risiedono tuttora su questa isola. Questa isola io personalmente non la consiglierei per un soggiorno mare, anche questa è un'isola che va girata, va vissuta, ha dei panorami mozzafiato, spiagge effettivamente molto belle, molto suggestive di spiaggia bianca, però come vedete non facili da raggiungere, sono tutti percorsi molto impegnativi, a parte Crystal Bay che è piuttosto comoda da raggiungere anche in macchina, in motorino, qualsiasi cosa. È un'isola che va capita e va vissuta in un certo modo, anche questo è compito nostro, trasmettervelo, per cui una volta che noi riusciamo a trasmettervi quello che Nusa Penida può offrirvi, sarete poi in grado di scegliere se è un tipo di vacanza che vi può piacere o meno. Questa che vedete sicuramente è la più famosa, viene chiamata la T-Rex Beach, proprio per la forma del promontorio. In questa zona tra l'altro si fanno delle bellissime immersioni. Cambiando isola, andando a Sulawesi, una cosa che proponiamo e che è sicuramente una destinazione che suggeriamo anche in questo caso ai viaggiatori, a chi vuole. Nusa Penida, cos'è per il trekking? Beh, sì, per un trekking, diciamo che per raggiungere le spiagge, ad esempio, che vedevi nell'immagine, secondo me è richiesto anche un buon allenamento, perché è molto ripida, è molto ripida. È vero che ci sono dei tratti con le scale, tutto quanto, però sì, se hai voglia di delle belle discese risalite sfidanti, perché no? Dunque, torniamo, non so se ho perso magari qualche domanda, magari eventualmente poi comunque avete tutti i miei contatti. Allora, parlavamo di Sulawesi, questa è una destinazione per viaggiatori, per chi ama conoscere culture completamente diverse da tutto quello che potete aver conosciuto fino ad oggi, ve lo garantisco, e questa è una destinazione, mi riferisco a chi me l'ha chiesto prima, che avevamo proposto a questo gruppo di fotografi, sono rimasti veramente deliziati dal contesto. Il Tanatoraja, quindi un altopiano all'interno dell'isola di Sulawesi, dove vive questa popolazione che ancora segue rituali ancestrali. Quindi considerate che è una popolazione che vive la sua intera la sua intera esistenza in funzione della propria morte, ok? Quindi il tour di Sulawesi, Antonio devi chiudere, rispondere su Lombok, sì, allora Lombok è una destinazione, una piccola parentesi su cui stiamo puntando molto, perché effettivamente offre tantissimo, dal mare al trekking, trekking di vari livelli, tipologie di soggiorni mare di livelli, comunque prendi il mio contatto e contattami senza impegno, anche se hai voglia solo di una chiacchierata su Lombok, contattami pure senza nessun tipo di impegno, così magari ti rispondo meglio. Grazie. Dicevamo, Tanatoraja, culture ancestrali legate ai rituali della morte, della sepoltura, quindi chiaro che il tour di Sulawesi prevede visite a luoghi sacri, tombe e tipologie di sopoltura che vengono comunque catalogati su base sociale molto interessanti, però vi garantisco che non percepirete mai, perché dite mamma mia io devo andare fin là a fare un tour, devo vedere dei cimiteri, delle tombe, dei morti, non è così, è veramente un'esperienza più unica che rara, soprattutto se avete la fortuna di assistere a un rituale funebre, che avviene principalmente nella stagione secca, quindi tra maggio ed agosto, io per esempio ne ho visto una d'aprile, quindi dipende molto. Ecco, in questo caso considerate che è importantissimo e fondamentale l'appoggio della guida locale, perché solo la guida locale è in contatto con, ha i contatti giusti per far sì che vi possano proporre la partecipazione, se chiaramente è un funerale che accetta la presenza di stranieri, che vi può proporre la partecipazione a un rito funebre, quindi è fondamentale, ecco, sono cose che solo un locale può offrirvi, dovete essere presentati alla famiglia, accettati, insomma dovete seguire determinate regole nell'abbigliamento per partecipare a queste funzioni che sono veramente molto molto caratteristiche, possono durare giorni, possono prevedere sacrifici animali, quindi anche in questo caso è giusto essere preparati, uno può decidere se assistere o meno a una cosa di questo tipo. I panorami all'interno dell'isola sono strepitosi, veramente strepitosi, un verde, sono isole molto piovose chiaramente, quindi il verde delle risaie è abbacinante e poi trovate questi villaggi insediati qua e là con questi tetti molto particolari, sono tetti da una forma che troverete soltanto lì. C'è chi dice che ricordino la forma della nave con cui questa popolazione è arrivata sull'isola, si parla di provenienti origini cinesi anche in questo caso, altri attribuiscono la forma alle corna del bufalo che è diciamo la moneta corrente dei Toraja. Mi fermo qua perché potrei parlare ora del Toraja, quindi non vorrei annoiarvi. Ecco, recentemente stiamo proponendo dei combinati, quindi dopo il tour del Toraja, proponiamo un soggiorno mare nella zona sud di Sulawesi o per chi ama le immersioni nella parte nord di Sulawesi, che è uno dei punti sicuramente dove i fondali hanno una varietà e una ricchezza che ancora difficilmente si trovano sul globo. Flores, un'altra destinazione che mi sento di consigliare per esempio a chi cerca contatto con culture diverse e fotografie? Sicuramente. Nel corso del tour si visitano circa quattro tipologie di villaggi etnici, sono cinque in realtà le etnie che ancora abitano queste isole e sono caratterizzate appunto da costruzioni completamente diverse una dall'altra. Anche in questo caso l'ascolto di quello che ha da raccontarvi la guida locale è fondamentale perché ogni villaggio ha delle leggende, dei riti, delle magie che effettivamente soltanto ascoltarli da una persona del luogo può trasmettervi le giuste emozioni. A Flores trovate poi i famosi laghi Chilimutu, quei tre laghi vulcanici di tre colori diversi. Non potevo mettere tante foto per cui per darvi giusto un'idea di quello che vi aspetta a Flores. Sì, anche perché stiamo un po' andando fuori tempo. Ecco, sicuramente non si parla di Flores senza parlare dei famosi draghi di Komodo. Ecco, qua mi allaccio a chi mi aveva chiesto prima le crociere. Allora, ci sono crociere che coprono l'intesa Nitero Nusa Tengara, quindi partono da Bali o da Lombo che arrivano fino a Rajampato, quei famosi velieri che sicuramente avrete visto. Sono crociere di elite, costi esorbitanti, esperienze indimenticabili per chi può permetterlo. Solo durano da dieci giorni anche a tre settimane e arrivano proprio fino a Rajampato. A Komodo proponiamo delle mini crociere con imbarcazioni locali che toccano alcune delle isole principali dell'arcipelago, tra cui appunto l'isola di Komodo e di Rincia, dove è possibile avvistare ancora i draghi. Questi famosissimi draghi che sono alcune delle creature più antiche del mondo, almeno si trovano soltanto in queste due isole e sono strettamente seguiti e controllati per evitarne l'estensione. Si parla della possibile chiusura o diciamo la riduzione degli accessi a Komodo, però devo dire che onestamente la cosa non ci preoccupa perché è possibile comunque dirottare le visite dei draghi su Rincia e poi, come dimostra la prossima immagine, la irrigazione di queste mini crociere, vai pure avanti Nuria, che fanno vedere ad esempio Padar. Ecco Padar, un'altra isola che si trova in questo arcipelago che sicuramente è qualcosa di molto molto bello da visitare. Ora arrivo a Lombok, mi dispiace che Antonio sarà dovuto andare via. Lombok, come dicevo prima, è una destinazione in cui crediamo tantissimo. Lombok, ci siamo fermati a Padar, adesso arriva Lombok, è una destinazione, è un'isola in cui si trova dalla spiaggia bianca del sud, la vita frizzantina con tanti locali, cose da fare, anche magari un aperitivo che in vacanza piace un po' a tutti, quindi nella bella cuta. L'interno dell'isola propone dei percorsi di trekking ricchi di cascate, risaie, ruscelli. Sì, assolutamente, a Comodo, a Rincia, in tutte le isole si può scendere. La crociera ha come scopo quello della mini crociera di farvi raggiungere chiaramente le isole che possono essere visitate. Ora rimaniamo in attesa di capire se Comodo rimarrà aperta per il 2020 e in che modo. Purtroppo stiamo ancora aspettando l'insediamento del governo. Dopo che il governo sarà finalmente insediato, riusciremo a sapere il nostro futuro su Comodo. Dicevo, Lombok, io ci credo molto perché quando tanti mi dicono, eh, io vorrei andare in Indonesia, però Bali so che è molto trafficata, c'è molto caos, perfetto, andiamo a Lombok. A Lombok non manca nulla, non manca nulla, è tranquilla, c'è poco traffico ancora, ha delle bellissime spiagge, un bellissimo interno, le cittadine, come vi dicevo, ricca e frizzantina e al nord è possibile anche fare diversi percorsi di trekking, dai meno impegnativi alla scalata dei rinjani, occorrono almeno tre giorni di scalata, quindi sicuramente da consigliare a chi è molto molto allenato. E da Senghighi, che è la cittadina che si trova nella costa nord-ovest, io ho un problema con i punti cardinali, si possono raggiungere le famose isole ghili, le famose isole ghili conosciute in tutto il mondo per la bellezza dell'acqua, dei fondali, delle spiagge, un'atmosfera hippie, non esistono strade, non circolano mezzia motore, ci si sposta esclusivamente in bicicletta a piedi o tramite dei cavallini, isole amatissime da tutto il globo e anche dal viaggiatore italiano. Sono tre isole principali, Ghili, Travangan, Air e meno, molto diverse tra loro e senza dilungarmi sulla descrizione di ognuna, sappiate che magari parlando riusciamo a capire cosa possiamo magari proporvi, cosa pensiamo possa essere meglio per voi. Ma ecco, noi stiamo cercando di promuovere queste piccole ghili, perché ghili in realtà significa isola, quindi in realtà in indonesia ci sono tantissime ghili, noi come ghili abbiamo subito in mente quelle tre grandi isole, ma esistono tante piccole isole posizionate nella parte occidentale dell'isola, raggiungibili con veramente pochi minuti di barca che sono ancora sconosciute alla massa e al turismo, parlo di ghili sudac, ghili chedis, ghili nangu, si fa un bellissimo snorkeling, dei bellissimi pranzi su questa sabbia borotalco e siamo molto, ci crediamo molto, quindi le vorremmo proporre per farvele conoscere perché sono isole che meritano, poi c'è Ghili Ghiedè che è la più grande e leggermente più spostata, per chi vuole vivere una soluzione con un bellissimo mare però più tranquilla io la prenderei sicuramente in considerazione. Ok, siamo arrivati quasi alla fine, un breve cenno alla la bellezza marina dell'Indonesia, qua ho riportato una foto che ho avuto la fortuna di scattare a Maratua qualche anno fa, dove mi sono trovata immersa in un banco di credo saranno stati almeno 100 delfini, una cosa veramente incredibile, archipelago di Darawan, quindi al largo delle coste orientali del Borneo, sono posti complessi da raggiungere, perché servono diversi voli interni, trasferimenti via auto, via barca, arrivare a Maratua significa impiegare almeno 3-4 ore di barca, veloce, però se si arriva in paradiso, questo veramente per chi ama il mare selvaggio, l'oceano selvaggio, i fondali incontaminati, tutto quello che di più autentico può offrire ancora il pianeta Terra, questo è il posto da visitare, ecco, adatto a chi ha voglia però di godersi il viaggio per arrivare, perché sicuramente è impegnativo, ma vale la pena. Grazie Lorena, Lello mi chiede se mi esagiava, il vulcano Cava, il Cava Igen, immagino tu stai parlando di questo, il Cava Igen, quindi il cratere dell'Oigen, io sono Laura. Il Cava Igen assolutamente è visitabile, non so se Lello tu stai facendo riferimento al discorso dei blue fire, i famosi fuochi blu, anche più oltre diversi. Allora, la discesa nel cratere dell'Oigen per vedere i fuochi blu, che è un fenomeno naturale da vedere prima delle primissime luci dell'alba, è una discesa che può essere molto impegnativa, avviene con maschera antigas, perché chiaramente vai proprio dove gli estrattori di zolfo lavorano e ricavano lo zolfo che poi portano sulle spalle fino alla cima del cratere. È un'escursione molto, molto, molto impegnativa. Noi la facciamo, ecco, se ci viene richiesta la possiamo organizzare senza problemi. Quindi eravamo a Maratua, sì, si possono assolutamente fotografare durante il loro lavoro, sì, non ci sono stati recriminazioni, ecco, magari, io lo dico sempre, è carino, magari se uno ha voglia di dare una mancia, una cosa di questo, però onestamente loro non la chiedono neanche, sono talmente presi da altro che... L'ultima immagine che vi faccio vedere è una bellissima manta del Manta Point, questa è un'immersione che si fa, ci sono tanti Manta Point in effetti in Indonesia, questa nello specifico è Musa Penida. Questo solo per dirvi, ricordarvi che i fondali, la vita sottomarina dell'Indonesia, è qualcosa che non può essere, non può essere, cioè, deve assolutamente essere sperimentata da chi ama le immersioni, ma anche lo snorkeling, le mante al Manta Point, per esempio, si vedono tranquillamente anche soltanto facendo snorkeling. Una ricchezza e una bellezza che a me commuove ogni volta. Quindi io ho finito, sono andata molto oltre il tempo che mi era stato dato, vi ho preso un'ora, quindi vi farò accenare molto tardi stasera. Se avete altre domande, se è possibile, altrimenti potete fare... Grazie Katia. Esatto. Alessandra. Ripeto, senza impegno, siccome so che magari ci sono tante altre cose che uno vorrebbe chiedere, sapere, curiosità, eccetera, senza impegno all'indirizzo che vi è stato dato da Nuria, trovate i miei contatti, chiamatemi, scrivetemi, senza impegno, una chiacchierata come vedete, non ho problemi a chiacchierare dell'Indonesia, anzi è una cosa che mi piace molto, per cui fatelo, approfittatene. Grazie Francesco, grazie a tutti, grazie a tutti per avermi seguita con tanta pazienza, spero di avervi presto come viaggiatori, sarebbe veramente un grandissimo onore per me, anzi se mi contattate fatemelo presente che ci siamo conosciuti questa sera, sarei, sarò ancora più contenta di seguirvi. Vi auguro a questo punto una buona serata, grazie, e non ho idea di come uscire da qua, ma faremo in qualche modo farò.